Buongiorno da Onda Tg in piazza contro la zona rossa la polizia locale ferma tra virgolette la protesta di 15 ambulanti oggi un giorno solo un giorno di zona rossa ma avrebbe da dire anche un giorno nero per gli operatori del commercio sentiamo nel nostro servizio all'inizio sembrava una mera provocazione poi alla fine sono passati i fatti inante che la polizia locale ha di fatto bloccato la protesta tra virgolette onde evitare di elevare le relative sanzioni circa 15 ambulanti si sono presentati regolarmente questa mattina sul mona per il mercato del sabato nella centralissima piazza garibaldi contro le misure restrittive della zona rossa che sono state reintrodotte solo per oggi dal tar dell'aquila dopo la sospensione dell'ordinanza del presidente della regione abruzzo marco marsilio un gesto di protesta per dire basta ai colori che cambiano alla burocrazia che confonde le idee alla politica che ha ingenerato rabbia e confusione a tutto svantaggio di una categoria già in difficoltà una protesta che sarà posta in essere nella piena consapevolezza del rischio alla fine dopo l'intervento della polizia locale per i controlli del caso gli ambulanti hanno deciso di non aprire per evitare la sanzione amministrativa di 440 euro 250 se pagata subito più la sospensione della licenza per cinque giorni una quindicina di ambulanti in piazza contro la zona rossa per un solo giorno siamo all'assurdo quindi questa mattina comunque avete deciso di venire qui in piazza? Sì, siamo rimasti che saremmo stati qui in piazza Garibaldi questa mattina anche come forma di protesta perché è inaccettabile che il giorno prima alle ore 22 venga comunicato, anzi neanche comunicato tramite social si è venuti a sapere che oggi non ci sarebbe stato comunque il mercato del sabato qualcuno aveva acquistato anche della merce quindi comunque c'è un danno per l'attività Sì, assolutamente, anche perché si avvicina il Natale noi ambulanti come anche i negozi ci forniamo di roba per portare la roba in piazza al mercato è un grave danno economico Poi bisogna farsi conti in tasca perché incappare in contravenzione ma soprattutto per la sospensione della licenza avrebbe forse provocato un danno ulteriore Sì, infatti questa mattina al nostro arrivo c'erano qui i vigili del comune di Sulmona che ci hanno detto nel momento in cui avremmo comunque aperto saremmo in corso in una sanzione di 440 euro più 5 giorni di sospensione della licenza e il che non è tanto il verbale ma più per i giorni di sospensione della licenza che non ti permetteva neanche di lavorare i giorni a venire Certo, ma solo in Italia? Uno dalla sera alla mattina vi dice domani non aprete Ma il problema è che noi abbiamo sentito che giù a Pescara i mercati sono aperti all'Aquila è aperto tra Neavezzano e Sulmona è successo di questo ma è una questione di buonsenso Cioè rovinarci prima l'Immacolata, adesso questo weekend è catastrofico, già la situazione si era determinata in un modo insopportabile insostenibile economicamente, adesso siamo arrivati proprio alla frutta Così intervengono gli ambulanti, molti dei quali avevano già acquistato la merce prima ancora della decisione del Tar Il mercato è quindi proseguito con i soli banchi dei generi alimentari Una giornata rossa ma anche nera, verrebbe da dire, per gli operatori del commercio anche quelli a posto fisso Qualche commerciante oggi aperto, restando dentro la sua attività senza vendere al pubblico La Polizia Locale ha effettuato tutti gli accertamenti ma da quanto ci risulta non sono state elevate sanzioni amministrative Intanto sarà un Natale osservato speciale come si può capire, pronta la macchina dei controlli a tappeto Sentiamo i particolari al nostro servizio Sorvegliati speciali saranno i luoghi di aggregazione centri storici, le arterie stradali di primario interesse per individuare eventuali situazioni di assembramento di mancato rispetto della distanza sociale e dell'uso delle mascherine Si annuncia un Natale pieno di controlli dopo il tavolo tecnico svoltosi nei giorni scorsi in prefettura nel corso del quale sono state studiate le misure più opportune per assicurare un Natale sereno ma anche super sicuro per il rispetto delle norme anticontaggio Nel summit si è deciso di operare più controlli mettendo in strada tutte le pattuglie disponibili anche con personale in borghese al fine di controllare sia i centri cittadini sia le periferie soprattutto in considerazione dell'apertura dei negozi che comporterà un maggiore afflusso e deflusso di persone Gli equipaggi impegnati, oltre a presidiare quartieri ad alta densità commerciale eseguiranno mirati controlli su soggetti con precedenti polizia criminale nei luoghi dove si possono prevedere possibili assembramenti Inoltre sulle varie arterie stradali e autostradali la polizia stradale svolgerà un'attenta attività di osservazione dei mezzi e delle persone verificando, anche con l'ausilio di pattuglie dell'arma dei carabinieri e della polizia provinciale il possibile afflusso di cittadini che potrebbero rientrare nelle loro seconde case a salvaguardia di piccole comunità E sarà programmata una tentazione di vigilanza a cura della guardia di finanza delle polizie locali affinché vi sia un rigoroso rispetto delle norme amministrative riguardanti le attività commerciali Insomma, tra spostamenti vietati almeno per ore controlli a tappeto si annuncia un attale blindato Intanto arriva un'ordinanza ad hoc per la gestione dei detenuti Covid da parte della Regione Abruzzo Ci sono ancora alcuni punti da chiarire ma da quanto si è appreso ora il detenuto dovrà, in caso di necessità di controllo essere portato nel presidio ospedaliero del territorio da qui, accertate le sue condizioni sarà trasferito nell'ospedale scelto dalla ASLE in caso di ricovero rimandato nella struttura penitenziaria che dovrà individuare i doni in spazi per eseguire l'isolamento sanitario Il controllo e la gestione dei pazienti detenuti è affidata comunque alla Direzione Sanitaria Penitenziaria che potrà essere potenziata con personale sanitario fornito dall'ASLE La rete regionale di coordinamento è affidata al dirigente sanitario del carcere di Lanciano Basto Chieti Si dice parzialmente soddisfatto dell'azione intrapresa il rappresentante della UILPA Polizia Penitenziaria Mauro Nardella poiché spiega, ritenuta tardiva e privata di una non indifferente questione qual è quella legata alla formazione e informazione sui rischi per i poliziotti penitenziari anch'essa da ritenersi finora assolutamente insufficiente La situazione del carcere di Sulmona d'altronde resta molto delicata ieri si è registrato un nuovo caso che ha fatto salire a 85 i casi Covid-19 tra detenuti e agenti penitenziari 10 ritenuti sono ricoverati sparsi tra gli ospedali di Sulmona L'Aquila e Pescara Tutti zitti se non autorizzati in piena pandemia in piena emergenza pandemica che fa l'ASLE? Ve lo dico io pensa alla fuga di notizie è proprio così sentiamo nel nostro servizio Arriva la nuova circolare ed è subito polemica fa discutere il nuovo provvedimento adottato dall'ASLE che impone il silenzio ai dipendenti se non autorizzati La UIL torna quindi all'attacco è datata a 11 dicembre infatti una circolare firmata dal manager Roberto Testa dalla direttrice sanitaria Sabrina Cicogna e dal direttore amministrativo Stefano Di Rocco in cui per farla breve si impone a personale tutto anche ai medici di non rilasciare dichiarazioni se non autorizzati pena provvedimenti disciplinari La loro motivazione in sostanza è che l'azienda proprio a causa di alcune dichiarazioni rilasciate è stata esposta a un grave danno d'immagine Duro il commento dei sindacati per i quali per esempio per la UIL in una nota firmata dal segretario Antonio Ginnetti da responsabile sanità Gianfranco Giorgi si tratta di un vero e proprio bavaglio Da più parte i sindacati continuano a chiedere le dimissioni del manager e il commissariamento della ASLE con la richiesta dell'invio da Roma di organi ispettivi come più volte ha fatto presente la CGL nell'ultimo periodo Una circolare insomma che ha scatenato nuove polemiche ma anche rabbia Simili provvedimenti non sono di certo risolutivi per affrontare e risolvere le varie problematiche In un momento di emergenza pandemica è necessario fare rete ciascuno per le proprie competenze e fermo restando il rispetto dei ruoli che è sempre garanzia di ordine sociale ma il problema dei problemi non può di certo essere la fuga di notizie E sul rischio della delocalizzazione della caserma dei vigili del fuoco gli attivisti del Movimento 5 Stelle suonano la sveglia al comune di Sulmona non vorremmo che questi due anni di silenzio da parte dell'amministrazione e questo problema portino il dipartimento dei vigili del fuoco a optare per la realizzazione della nuova caserma in comuni a stretto confine con Sulmona secondo i 5 Stelle i fondi ci sono ma tutto sarebbe da ricondurre per un problema burocratico interno al comune di Sulmona sta passando tempo per questo gli attivisti hanno suonato la sveglia hanno lanciato l'allarme ma approfondiremo meglio questo argomento nella prossima edizione ora cambiamo argomento pariamo le tre storie di Abruzzo questo viaggio c'è anche Sulmona c'è anche un po' di centro Abruzzo tra i luoghi d'Annunziani in nostro servizio porto la terra ad Abruzzi porto il limo della mia foce alle suole delle mie scarpe al tacco dei miei stivali è questa la piccola patria la piazza con i suoi alberi patiti l'angolo della casa negletta ove l'androne è umido e tacito la rivista Tesori d'Abruzzo nel numero d'autunno ne dico la celebra il bate Gabriele d'Annunzio in un viaggio curato d'Enrico Di Carlo un percorso attraverso i luoghi d'Annunziani illustrato da fotografie e da un filmato il viaggio ideale partendo da pescara patria del poeta tocca diversi paesi della costa dell'Abruzzo interno come Sulmona l'Aquila Scanno Popoli in Versa degli Abruzzi fino a Taranta Peligna curato e prodotto da Paolo De Siena con la consulenza storica di Enrico Di Carlo il filmato è stato realizzato con le riprese e il montaggio musica curati da Alessandro Petrini avvalendosi dell'attrice teatrale cinematografica Cristiana Esposito Giuliese volto noto in alcune serie televisive Scannesi le due comparse con Cetta Spacone già da paletta il make up è straffidato a Annalisa Lalli nello stesso numero un servizio è dedicato anche a Pesco Costanzo le strade si erpicano tra la straordinaria natura e le case fanno da cornice al paesaggio montano lo sguardo vola sulla città piena di chiese superbe di antichità pregevolissime di fontane e di belle donne verso l'Adriatico file di pini corrono lungo il mare e la torre di vedetta del Cerrano si confonde coi campi su per la collina tra i grandi alberi si contempla l'eterno movimento del mare il fuori onda TG sta per arrivare dalla prossima settimana è un piccolo telegiornale solo di buone notizie sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio alzi la mano chi non sogna un TG solo di buone notizie in tempo di pandemia e piena emergenza sanitaria l'utenza cerca anche la notizia di colore quella buona e diversa dalle altre per avere uno spaccato completo della quotidianità da sempre siamo consapevoli di questa esigenza tant'è che i nostri lettori e telespettatori lo sanno abbiamo creato ormai da 4 anni lo spazio delicato La Buona Notizia che chiude l'edizione serale per dare un pizzico di ottimismo all'informazione del territorio un momento particolarmente atteso soprattutto le più piccole e dai nonni che suscita interesse e curiosità ma è giunto il momento di un secondo passaggio La Buona Notizia non mancherà nell'immancabile Onda TG ma dalla prossima settimana sul canale 18 le Digitale Terrestre arriva fuori Onda TG ovvero un piccolo telegiornale solo di buone notizie la conduzione è affidata a Luigi Marrese 18 anni di Sulmona studente del quinto anno delle Ciofermi che dovrà cimentarsi nel raccogliere le buone notizie fuori e dentro l'ambiente scolastico un'esperienza nuova per lui e per noi perché la versione smile del telegiornale sarà comunque connessa con quella principale canonica una rete di informazione bella e corretta né statica né sedentaria come direbbe qualcuno siamo quello che facciamo e non quello che diciamo di essere a proposito di nuove iniziative perché è evidente che l'isolamento porta anche a riflettere da oggi è possibile inoltrare anche delle segnalazioni specifiche alla nostra redazione sull'emergenza da Covid-19 con la nuova sezione raccontano al mister che è stata inserita sul nostro sito internet e quindi problemi disagi segnalazioni richieste di aiuto proprio riguardo l'emergenza pandemica in atto d'altronde abbiamo continuiamo a garantire un'informazione in tempo reale puntuale da questo punto di vista e abbiamo vissuto anche l'altro lato quindi ci siamo posti per forza di cose dall'altra parte durante il periodo di isolamento domiciliare e del contagio per questo vogliamo ora metterci a disposizione per raccogliere ancora di più le istanze che arrivano dall'utenza approfondirla approfondirle con le figure di riferimento cercare anche di dare il nostro contributo per risolvere le varie problematiche che anche in questa fase della seconda ondata vanno avanti e purtroppo non sono poche quindi per vedere come segnalare basta visitare il nostro sito internet www.onoribu.tv troverete questo apposito spazio dedicato che abbiamo voluto preparare proprio per rafforzare questo filo diretto con l'utenza riguardo l'emergenza covid-19 consapevoli del ruolo che riveste non solo l'informazione ma soprattutto questo tipo di informazione e anche l'informazione televisiva vi invito quindi a visitare il nostro sito internet per restare comunque aggiornati su tutte le notizie davvero tutto per questa edizione grazie per aver scelto Onda DG che come di consueto torna questa sera alle 20 e 10 a tutti buon pomeriggio grazie a tutti